E' stato inaugurato con una vera e propria coloratissima festa il Parco delle Cave di Marcovito, uno scrigno verde donato alla città di Lecce che da lunedì 20 novembre si era aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 e 30. Un vero e proprio gioiello di riqualificazione green che unisce al meglio passato e presente. Questo è un progetto che è partito con le precedenti amministrazioni in applicazione di una previsione specifica del vecchio PRG che indicava la realizzazione di un parco delle cave. Si riuscì a ottenere un primo finanziamento, il concorso internazionale poi vinto dall'architetto Alvaro Sizza e poi un lungo percorso legato al reperimento di ulteriori fonti di finanziamento. Complessivamente saranno stati investiti circa 9 milioni e mezzo di euro qui in questo spazio. Un altro scrigno verde restituito alla città di Lecce, davvero sette tettari magnifici. Sì, finalmente, anzi dopo non poche difficoltà restituiamo questo polmone verde alla città. Ovviamente dopo Malsteria d'Agliatelle è un altro tassello che si aggiunge come parco alla nostra città, fruibile per i nostri cittadini, meraviglioso perché racconta un po' la storia di questa città e anche un po' quello che è il futuro della città, cioè la fruibilità di questi grandi parchi urbani.